Andiamo tutta in scena Andiamo le pronte in sarporia per favore Uno, due, tre, quattro, cinque, sei Poi ti muovi Vai Motore Azioni Alta un pochino la testa Stai indietro all'inizio Adesso guarda in alto L'alzi verso l'inizio Guarda sempre la mia mano Non vi fa come vi guardo Non vi guardo Eh non vi guardo Giriamo Buonasera ragazzi Per iniziare questo racconto su Federico Fellini Vorrei partire proprio dall'assegnazione Dell'ultimo premio Oscar Il quinto Perché Federico Fellini Ricordiamolo È l'unico regista al mondo Ad aver ottenuto cinque premi Oscar Quattro per i suoi film E uno alla carriera Siamo nel 1993 Che è anche l'anno della sua scomparsa Federico si reca a Hollywood Con qualche incertezza Perché aveva dei problemi di salute I miei americani lo accolgono Col solito calore Con la solita amicizia Ed è felicissimo Quando sale Sul palcoscenico Del chande del paviglio Accompagnato dai suoi angeli custodi Barcello Mastroianni E Sofia Lore Fa finta di dimenticarsi Il discorsetto Che era stato concordato E fa un colpo di teatro Straordinario Comincia a ringraziare gli americani Che gli sono sempre stati così amici Dice che dovrebbe avere La voce di Placido Domingo Per esprimere il ringraziamento Che sente nel cuore E che dovrebbe anche ringraziare Tutti quelli che non hanno accompagnato Nella sua carriera Ma che farà un solo nome Di un'attrice Che è stata anche mia moglie Grazie Giulietta And now Stop crying E adesso smetti di piangere E in quel momento La camera Del regista Della cerimonia Si piazza Sul primo piano Di Giulietta Massina Che si sta liquefacendo Di lacrime Crede di ridere E piange Come una fontana Di fronte a un pubblico Di un miliardo E ottocento milioni Di persone Federico Ha preso La statuetta in mano E simbolicamente Idealmente L'ha ceduta A sua moglie Si erano conosciuti Giovanissimi Si erano sposati Che Federico Ha 23 anni E Giulietta Ne aveva 22 In piena guerra Nel 1943 Tanto che avevano dovuto Fare la cerimonia In casa Della zia Giulia Che era una specie Di vice madre Per Giulietta Che l'aveva presa Fin da piccolo E l'aveva tenuta Con sé sempre E Federico Aveva disegnato Di sua mano La partecipazione Di nozze E non avevano Neanche potuto fare Il viaggio Di nozze In tutto Eravano andati Nel pomeriggio A trovare Alberto Sordi Che stava recitando In un teatro Di varietà di Roma E che vedendoli arrivare Aveva interrotto La sua recita Dicendo Sono entrati In platea Due miei carissimi amici Che si sono sposati oggi Giulietta Masina E Federico Fellini Era sprosciato Un applauso Enorme Perché Federico Fellini Era già molto conosciuto Soprattutto nel pubblico Giovanile Per la sua collaborazione Al Marco Aurelio Un quindicinale satirico Che prima della guerra Tirava addirittura 300.000 copie Ed era letto Soprattutto dai ragazzi Federico Lasciando Rimini Per andare A raggiungere La sua vocazione a Roma Aveva trovato questo lavoro Che gli piaceva molto Perché disegnava sketch Barzellette E soprattutto Scriveva dei raccontini Sentimentali Surreali Un po' nostalgici Che erano piaciuti moltissimo Tanto che la Rai Ne aveva preso uno di questi Che si chiamava Cicco e Pallina Per trasfonderli In una trasmissione radiofonica Leia Non la Rai Ed è allora Era stato proprio Nei corridoi Del Leia Che Federico E Giulietta Siamo conosciuti Perché Giulietta Che faceva Frequentava allora L'università E muoveva i primi passi Nel teatro Era stata chiamata A interpretare La figura femminile Quella di Pallina I due ragazzi Si erano piaciuti Si erano sposati Di lì A sei mesi E era cominciata La loro vita Cinematografica Insieme Perché Federico Intanto Con le sue battute Era stato chiamato A collaborare D'Aldo Fabrizi Che era Il comico Più pagato Più celebre In quel momento Era diventato Il suo gagman E poi aveva cominciato A scrivere Le prime sceneggiature Anche sempre Per film In cui era protagonista Fabrizi Come Campo dei fiori Avantice posto Delle commedie sentimentali Che avevano Un enorme successo E così Quando Roberto Rossellini Aveva in mente Di realizzare Roma città aperta E avrebbe voluto Avere Fabrizi Per interpretare La parte di Don Morosini Il prete Che poi Entra nella resistenza E viene fucilato Dai nazisti E è stato Federico A fare da tramite In questo E partecipa Anche alla sceneggiatura Scrive la sceneggiatura Con Sergio Amidei Roma città aperta Il capostipiti Di questa nuova Visione Del mondo Del cinema Che è il Neoralismo Che diventerà Famosissimo In tutto il mondo E quindi Anche lui Entra nel cinema Dalla porta principale Comincia a fare Il regista Prima Con una regia A quattro mani Insieme All'attuada Per un soggetto Una sceneggiatura Scritto è scritto Scritto da lui Che si chiama Luci del varietà Sulle sue esperienze Appunto Teatrali Accanto A Fabrizi E poi Con un film Che è tratto Addirittura Di un soggetto Da Michelangelo Antonioni Che si chiama Lo sceico bianco Il quale racconta Invece il mondo Dei fotoromanzi Una storia grottesca Finto tragica Di una coppia Di sposini Che va in viaggio Di nozze a Roma Ma lei Appena arrivata Alla pensione Lascia il marito Per andare a incontrare Segretamente Lo sceico bianco Il personaggio Dei fotoromanzi Di cui lei è innamorata Insomma Una tragedia grottesca Molto divertente Però Il pubblico Non apprezza il film Si dice che non lo apprezzi Perché C'è Alberto Sordi Che interpreta Appunto Lo sceico bianco Ma il film Successivo Federico Rivuole Alberto Sordi E i vitelloni E il film In cui lui racconta La sua gioventù I vitelloni Cioè questi cinque amici Che disperdono La loro vita In sciocchezze Finché uno solo Moraldo Una mattina Prenderà il treno Per voltare le spalle Al borgo E inseguire La sua vocazione A Roma E' un film Che avrà Un enorme successo A Venezia A Festival di Venezia Guadagna Il leone D'argento E Federico Finalmente può Realizzare Può avere la credibilità Per realizzare Il film Che fin dall'inizio Avrebbe voluto fare Che è La strada La strada E' un film Stranissimo In un momento In cui tutto il cinema Italiano Segue soltanto La corrente Neoralista Di impegno sociale Federico si inventa Quella che lui chiama Una favola truce E propone Una sua visione Magica E favolistica Del mondo La strada E' la storia Di tre personaggi Giulietta Masina Dice Sono tutte Tre felline La protagonista Gesso Mina Una ragazzina Poverissima Che vive In una capanna Sulla spiaggia E viene raccolta Da un girografo Da un saltimbanco Protervo Durissimo Che è interpretato Anthony Queen E che durante la storia Invece Incontra Un terzo personaggio Che si chiama Il matto Interpretato Richard Beysart Che è un funambolo Che cammina Su una corda tesa Fra due Due Case Che ha delle alucce Da angelo E che lei Vede quasi come un angelo E sarà lui A farle scoprire La natura divina Dell'essere umano Quando il matto E Zampanò Vengono alle mani E Zampanò Viene portato In prigione Perché ha tirato Fuori il cortello Il matto Va a chiedere A Gesso Mina Di fare coppie Insieme Di andare Insieme Per i circhi Girare l'Italia Lei vorrebbe andare Però qualcosa La trattiene Qualcosa di misterioso La trattiene Accanto a Zampanò E il matto Capisce E dice Ma se non ci stai tu A Zampanò Ma chi ci sta Raccoglie un sasso Da terra E dice Vedi Noi veniamo Al mondo Ognuno Con il suo compito Se questo sasso Non avesse nessun valore Non avrebbe valore Neppure tutte le stelle Che stanno in cielo E glielo porge Lei lo stringe E capisce E capisce in quel momento Di avere un ruolo Nel mondo Di avere un principio Spirituale dentro Se stessa Si trasforma E capisce Che il suo ruolo La sua missione È quella di stare Accanto A Zampanò E forse Questa è anche La missione di Giulietta Accanto a Federico Il film si conclude Tragicamente Però alla fine Vediamo che quando Mai ingrigito E stanco Zampanò In un borgo Di mare Sente una giovane donna Che stendendo i panni Canta di gola Il tema Che Gerson Mina Suonava con la tromba Lei chiede Ma dove ha sentito Questa musica E lei le racconta Che era arrivata Una giroga Una piccola giroga Che non parlava Non sapeva Dove andare Dove veniva Si sedeva sul gradino Della loro casa Le davano un piatto Di minestra E quando c'era Un po' di sole Prendeva la tromba E suonava Questo tema E lui chiede Ma dove è andata Dove la posso trovare E la ragazza dice Credo che è andata via Credo che sia morta Zampanò Fa nel pomeriggio Il suo numero Al circo Credendoci sempre meno E la notte Lo troviamo Che si muove Come un orso Sulla spiaggia Tutto vestito Entra in acqua Esce Non sa lui Cosa fare Alza gli occhi al cielo Vede quel firmamento Stellato E improvvisamente Cade in ginocchio In singhiozzi Zampanò Il brutale Zampanò Piange Piange perché Che ha scoperto Anche lui Dentro se stesso Un principio spirituale Che non conosceva prima Ecco Questo film Introduce Lasciato il neuralismo Introduce Federico Fellini In un ambito Molto poco conosciuto Prima È la trilogia È la trilogia È la trilogia Della magia Spirituale Della spiritualità Alla base Della vita Il film successivo Sarà Il bidone Un film Che io ritengo Che sia forse Il più Cripticamente Religioso Di Federico Un film bellissimo E subito dopo Ci sarà Le notti di Gabiria Che è la storia Di una piccola prostituta Di Borgata Che vive Delle vicende Sempre sfortunate Sempre angariata Sopraffatta Dagli uomini Ma che rialza Riesce a rialzarsi Sempre la testa Diventa per questo Forse un'icona Anche di tutte le donne Che subiscono Da secoli Da millenni Ogni forma di violenza Ma che nessuno Riuscirà mai A piegare Se la strada Aveva riscosso Un successo Universale Tanto che la regina Elisabetta Al suo primo anno Di regno Vuole proiettare Il film Nel più famoso Theater Nel più famoso Cinema Di Londra E quando escono Dal cinema Federico e Giulietta Mi racconta Giulietta Nella mia intervista Filmata C'erano due ali Di folla Immensa Che continuavano A gridare Jasmine 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 E una signora D'aristocrazia Mi riferì Giulietta Si era tolta La collana Di Lapislazio Per porgerla a lei E dirgli Questo è per Jasmine Tanto era l'affetto L'amore Che avevano Questi due personaggi Per le notti Di Cabiria Federico invece Non era neanche andato A Hollywood Non pensava Che gli desse Un secondo Oscar Un anno dopo Ed era andata Soltanto Giulietta Massina Che però Aveva raccolto Degnamente Tutti gli allori E addirittura La sera Della cena Di gala Ovviamente In suo onore Era stata Assegnata Un posto Vicino a Clark Gable Che era il suo attore Adorato Proprio Era il suo idolo Quello per cui Lei Stravedeva Tanto che Come una scolaretta Mentre sta a cena Gli dice Mi può fare Un autografo E l'altro Ridendo Con il suo bel vocione Virile Dice Ma Giulietta Sei tu Che hai preso L'Oscar Sei tu Che devi fare L'autografo A me Insomma Giulietta Torna a Roma Carica di onori E Federico Sentendo questa storiella Ne ride divertito Ma le distrugge Anche il suo idolo Dicendo figurati Con quelle orecchie A sventola Insomma Federico è diventato Uno dei registi Più noti al mondo E riesce a fare Un film Che non ha precedenti Si chiama La dolce vita Un film Dove Lascia Definitivamente La servitù Del plot Della trama Per raccontare Una storia Di un giornalista Mondano Interpretato da Marcello Mastroianni Che è il suo alter ego Che vive a Roma Una vita così dissipata Più notturna Che diurna Di avventure Erotiche Di incontri Di tragedie Che raccontano L'Italia Di quel momento Il passaggio Da un'Italia Arcaica Ancora agricola A un'Italia Industriale Che sta entrando Nel benessere economico Nel boom Economico È una Roma È una Roma straordinaria Roma diventa La capitale Internazionale Anche perché Nel film Ci sono delle icone Come Anita Eckberg Che ancora Rappresenta La bellezza femminile Inarrivabile Questa svedese Che viene subito Ribattezzata Dai fotoreport Giaccio bollente Di cui Marcello Il protagonista Si inamora Entrando addirittura Vestito Nella fontana Di Trevi In cui lei Lo invita Ad entrare Camo Marcello Camen Camen E poi Si stanno Per baciare Lei Li passa Con la mano A conchiglia Li fa scendere Qualche goccia Sui capelli Come in un ideale Battesio Ma il film È un film Molto duro C'è la scena Del miracolo Che denuncia Gli imbrogli Che vengono fatti In nome della fede C'è Il suicidio Di Steiner L'intellettuale Creduto al di sopra Di ogni umana Debolezza E c'è anche Alla fine Uno spogliarello Che scandalizza L'Italia Uno spogliarello Quasi integrale Ricostruito Su un famoso Scandalo Del Rugantino Dove Una ballerina Turca E Shenanà Aveva appunto Fatto uno spogliarello Integrale Federico Aveva visto Queste fotografie I film Compie Un enorme Scandalo In Italia Tanto che Tutta L'intelligenza Cattolica E la curia Romana Che avevano Sempre Fiancheggiato Fellini Lo ripugiano L'osservatore Romano Esce con Titoli di fuoco Basta Vergogna Nelle parrocchie Del nord Nel Veneto Addirittura Vengono affissi Vengono affissi Dei manifesti A lutto In cui si dice Pregate per il pubblico Peccatore Federico Fellini La madre di Fellini Viene cacciata Dalla chiesa Dalla sua chiesa Dal suo parroco Per essere la madre Di un reprobo Federico non sa Veramente più Che pesci pigliare Il film Ha un successo Enorme Di pubblico Tanto che Roma Deve tenere I cinema aperti Notte e giorno Per le file Inesauribili Che ci sono Per vedere il film Ma Intorno a lui C'è questa condanna Che lo opprime E lo amareggia Vuole riuscire a spiegarsi Chiede a padre Arpa Che Il gesuita Che l'ho seguito Fin dal tempo Della strada Di creargli un colloquio Con il cardinale Montini Arcivesco di Milano Che sarà Il papa Paolo VI Per spiegare a lui Come stanno le cose Il quale invece È durissimo Non vuole neanche Riceverli E chiede addirittura Che il film Venga ritirato E bruciata la pellicola Federico farà Un film satirico Su Questa Ipocrisia Che si chiama Appunto Le tentazioni Del dottor Antonio Interpretato Da Peppino De Filippo E ancora Una volta Da Anita Egber E il film successivo Però Fa ancora Compia un passo In più È la rivoluzione Copernicana Federico Nel frattempo Ha incontrato Ernst Bernard Che è un allievo diretto Di Carl Gustav Jung Il fondatore Della psicologia Analitica Bernard Abita A Via Gregoriana A Roma Federico Lo conosce Quasi per caso Ma non esiste Il caso Nella nostra vita Lo sappiamo E Bernard Gli spalanca Le porte Della percezione Gli fa capire Che insieme Alla vita diurna C'è una vita notturna Che non è Meno importante La vita del nostro inconscio La vita dei sogni Tanto che Federico Da quel momento Comincia In un librone Di Cata di Fabiano A disegnare Ogni mattina I sogni Che ha Durante la notte Li disegna Colori Li riporta I dialoghi A volte Accenna Anche All'interpretazione Ed è l'opera Più straordinaria Che abbiamo Di Federico Privato Perché Non esiste Un equivalente Al mondo Non solo Di un individuo umano Ma addirittura Di un artista Di quel livello Che per trent'anni Dal sessanta Al novanta Annota Ogni mattina Ciò Il teatrino Onirico Ciò che è accaduto Durante La notte Federico Con otte e mezzo Non solo Abbandona la trama Come è stato Per La dolce vita Ma addirittura Rivessa Dentro un film Delle cose Che non si erano Mai viste prima Il sogno La psicanalisi L'autobiografia Federico Racconta Senza pudore La sua storia La moglie L'amante Le fantasie erotiche Questo regista In crisi Di ispirazione Che va a rifugiarsi Nelle terme di Chianciano Per trovare una via d'uscita E non la trova Nella sua confusione Ma alla fine Quando tutto è perduto Quando il film Che lui dovrebbe girare È ormai caduto Il produttore Non lo segue più Da solo Sente Che ha realizzato Invece qualcosa Di potente Cioè ha conosciuto Se stesso E dice Ma questa confusione Sono io Non è io Come vorrei essere O come vorrebbero gli altri Io come sono E non posso essere Nessun altro Perché Dice alla moglie Che intanto Si è avvicinata Alla sua mattina Lui è lì Fermo al volante A fare queste considerazioni Invece c'è lei Che lo sta ascoltando Come potrei guardare I tuoi occhi innocenti Se non fossi fedele A me stesso E dice la famosa frase La vita è una festa Viviamola insieme La moglie A quel momento In quel momento Parla Che è stata In quel momento Immobile Silenziosa Ad ascoltarlo Dice Io non so Se quello che tu dici È vero Ma se mi aiuti Possiamo provarci Se mi aiuti Possiamo provarci È la formula Della coppia Solo così La coppia potrà salvarsi In quel momento Come se fosse stata Adottata Una formula magica Il mago Maurice Il mago Degli esperimenti Di telepatia Dei giochi Di illusionismo Che si facevano Nel giardino Del grande hotel Per gli ospiti Dell'albergo Arriva Vestito in frac Gioioso Scintillante Dicendo Il film riparte Il film riparte Accendete le luci E il regista Esce dalla macchina Trova il suo megafono Appoggiato su una sedia Lo prende E comincia a dare ordini È un piccolo bambino Vestito di un frac Bianco Da maziere Che guida Tre o quattro Musicisti Da circo In quel momento Prende una tenda La apre Davanti a quella Che era la rampa Di lancio Costruita per il film Che non si farà più Da cui scendono Tutti I personaggi Del film Non soltanto Gli attori Che hanno recitato Nel film Ma anche quelli Che non sono Gli attori I personaggi Del film Ma sono soltanto Le fantasie Del protagonista Soltanto i suoi sogni Sono centinaia Di personaggi Che è quelli Con cui L'artista Vive in strettissimo Contatto Le sue figure Le sue mille figure Le sue frantumazioni E' una situazione speculare Che salendo Su una passerella Si mettono A fare Questo bellissimo Rondò Sulla musica Sulla marcetta Di Nino Rota Che diventa La sigla musicale Di tutto il cinema Guido E la moglie Luisa Si prendono per mano E salgono anche loro Sulla passerella Tenendosi per mano Con tutti gli altri Sono anche loro Dei personaggi Del film A rappresentare A dire A dichiarare Che l'unica possibile Armonia E' nell'arte Soltanto nell'arte Possiamo ricomporre I contrasti E comprenderci Al di là Di ogni pregiudizio Fellini Ha scavalcato Le mura Del cinema E' andato al di là Non solo E' un autore Ma è un demiurgo Un creativo E' uno che Lancia il cinema In una posizione Che non ha mai avuto Prima Il cinema Era intrattenimento Invece adesso Il cinema E' arte Alla pari Con la letteratura La pittura La musica La scultura L'architettura Insomma E' la settima arte Di cui Federico E' sicuramente Il monarca L'essere entrato Nel mondo sconosciuto Dell'inconscio Quindi di un mondo Che si svolge Parallelo al nostro Però gli ha aperto Altre curiosità Che non riesce A fermare E vorrebbe Ancora Scavare Nel mondo Dei sogni E inventa Un film per la moglie Che si chiama Giulietta degli spiriti In cui vuole narrare La vita Di una signora Borghese Inibita Che viene Assalita Dai suoi fantasmi Anche erotici E di fianco a lei Chiama Sandra Milo Sandra Milo Che In ottenere Mezzo Aveva recitato La parte dell'amante Del protagonista Che si chiamava Guido Qui Rappresenta La donna liberata La donna sensuale Trasgressiva E nel frattempo E' diventata Veramente L'amante Di Federico Fellini Però Federico Fellini Riesce a mettere insieme Moglie Amante E tutte le sue fantasie Che attribuisce A Giulietta In questo film Che la moglie Dice Di non aver mai capito Durante la lavorazione Ma di aver capito Soltanto molto dopo In seguito Giulietta Degli Spiriti Che è il primo film A colori Di Fellini Fra l'altro Sgargiante Meravigliosa Con questa fotografia Di Gianni Di Venanzo Che è veramente Irripetibile Non ha lo stesso successo Di otto e mezzo Forse perché è un pochino Più difficile In ogni caso A Federico Questo non importa Ormai sa che la sua strada E' quella della testimonianza D'autore Un artista Deve soltanto Testimoniare Se stesso Non è Non ha compiti diversi Nella vita E su quella strada Vuole andare a scoprire Che cosa c'è Al di là Di quella parete Di carta velina Come la chiamava lui Che ci separa Dallo sconosciuto Di un mondo sconosciuto E della quale Qualche volta Quando c'è uno strappo Qualcosa trapela Un suono Una visione Un'immagine Una visitazione Vuole sapere Che cosa c'è Al di là E inventa Questo film Intitolato Il viaggio Di Giuseppe Mastonna In cui Si immagina Un suonatore Di violoncello Che viene chiamato In un concerto Da eseguire In una grande capitale Del nord Prende l'aereo Ma durante il viaggio C'è una turbolenza Le assistenti di volo Dicono di Allacciare Le cinture Di sicurezza Perché si deve fare Un atterraggio Di fortuna Che avviene Sul sagrato Di fronte A una bellissima Immensa capitale Cattedrale gotica Forse la cattedrale Di colonia Tutti i passeggeri Escono dagli scivoli C'è un'enorme confusione Non si trova un telefono Per chiamare i propri cari Per avvisare Quello che cosa è successo E il protagonista Improvvisamente Comincia a incontrare Delle persone Dei conoscenti Degli amici Che però sono morti E quindi capisce Che Non si è tratto Non si è trattato Di un atterraggio Di fortuna Ma di un incidente aereo In cui ha perduto La vita E senza accoggersi È andato Nell'aldilà Quando sta per realizzare Questo fisso Non già pronto Alcune costruzioni Negli studi Nei teatri di posi Nei teatri di posi Della Pontina Che sono di De Laurentiis Federico si ammala All'improvviso Nella sua stanza Del residence All'Eur Dove è preso Alloggio Per stare più vicino Ai teatri di posa Cade in un deliquio In uno svenimento Da cui non si riprende Lo portano Di corsa Con l'ambulanza In ospedale A Salvatormundi E lì Circondato Dai luminari di Roma Arriva persino L'archiata Pontificio Non si riesce A capire Quale sia La sua malattia Si pensa Che sia Un tumore All'ultimo stadio Mortale Da cui Federico Non riuscirà A riprendersi Ma come succede Sempre nella vita Di Federico Che è sempre Sul discriminante Fra la vita vera E la magia Arriva a trovarlo Un compagno di scuola Un compagno Di liceo Di Rimini Ercole Sega Che nel frattempo È diventato Medico Se specializzato In oncologia Il quale Leggendo l'anamnesi Si azzarda A fare Una diagnosi Dice Secondo me Si tratta Di una pleurite Allergica Conosciuta Sotto il nome Di Morbo Sanarelli Schatzman Proviamo A dargli Del cortisone Che era stato Scoperto Proprio in quegli anni Se la malattia Regredisce Ce l'abbiamo fatta Altrimenti Ci sarà La volontà Di Dio Provano Col cortisone E Federico Guarisce Guarisce Ma resta Come ferito Da questo film Che non ha fatto Il film sulla sconosciutezza Accetta di dirigere Un episodio Di un film A più mani Prendendo un racconto Di Edgar Allan Poe Che si chiama Non scommettere la testa Con il diavolo Che lui ribattezza Con il nome Del protagonista Toby Demnett Che è un americano Insomma Demnett Che si è dannato E racconta la storia Di un attore inglese Mezzo fumato Mezzo drogato Che viene chiamato In Italia A interpretare Un western Cattolico In cambio In compenso Gli danno Una Ferrari Una magnifica Ferrari scoperta Durante la festa Di lancio Del film L'attore Prende la Ferrari Corre come un pazzo Per le strade Nella capitale Che non conosce Su per i castelli romani Quando si imbatte In un viadotto Che è crollato Dall'altra parte C'è una bambinetta Dolce Bionda Con gli occhi azzurri Che sta giocando Con una palla E lui la vuole raggiungere Vuole andare di là Fa una marcia indietro Veloce Prende una rincorsa Violentissima Con questo bolide Per saltare Dall'altra parte Del viadotto E non si accorge Che c'è Una sbarra tesa Sopra Quel burrone Che gli taglia Di netto La testa Che va a rimbalzare Nelle mani Della bambina Che invece avrà Il ligno Del demonio Un film Sul furio E subito Dotto Federico Decide Di realizzare Comunque Un viaggio In quella che lui Chiama La sconosciutezza Rappresentando Un romanzo Dell'antichità Un romanzo Di Petronio Arbitro Il Satiricon Arrivato a noi Per frammenti Della prima Età Neroniana Vuole Condurre Come dice lui Un film Di fantascienza Nel passato Raccontando Una società Di migliaia Di anni fa Di una romanità Come non è stata Mai vista prima La romanità È stata sempre vista Al cinema Con i peplo movies Insomma Quasi delle parodie Federico invece Vuole andare a fondo Nella sconosciutezza E mette insieme Un affresco Inverosimile Grandioso Mai pensato prima Di una romanità Di due ragazzi Ascilto In colpio Che si muovono Come in un road movie Del passato Si muovono Fra le avventure Di tutti i generi Che toccano molto Il mito La leggenda L'archetipo E che si risolve In una visione Incantata E Veramente Abbagliante Che avrà Un enorme successo Perché non si è mai visto Qualcosa di simile Al cinema E Federico Diventa veramente Una specie di guru Un artista Che sa Entrare In situazioni Mai prima Tentate Federico Entra In questo momento In una sua In un'altra stagione Ha lasciato indietro La distanza Del neorealismo Si è inventato Lo spiritualismo Magico Ha creato La società Italiana Degli anni Sessanta E adesso Si sta Veramente Inoltrando Nel mondo Della memoria C'è la trilogia Della memoria Che parte Con I clown Un film Dedicato al circo Dove lui Conosce la sua Vocazione La chiama Addirittura Un'annunciazione Fatta a Federico Per passare A Roma La città Madre Non soltanto Perché è la città Che lo accoglie Come madre Ma perché è la città Della madre Ida Barbiani Era romana La città Dove si evolve E si afferma Il suo talento Una Roma Raccontata Anche quello In uno spirito Assolutamente visionario E con delle sequenze Di inenarrabili bellezza Basti pensare All'invenzione Del defilè ecclesiastico In cui Federico Immagino Ha sfilata di moda Per ecclesiastici In un palazzo Patrizio del Vaticano Una cosa Veramente Che non conosce parole Per essere raccontata E subito dopo C'è Amarcord Finalmente rientra Nel borgo Amarcord Significa Io mi ricordo Il romagnolo Ma in questo suono Sembrerebbe anche Una cabola Sembrerebbe anche Un'abracadabra Federico Vuole entrare Nella memoria Inventata Come la chiama lui Raccontando la sua infanzia Raccontando il borgo Raccontando il fascismo Solo come poteva Raccontarlo lui Con la verità Di un poeta E raccontando Anche i primi Turbamenti sessuali Raccontando quello Che ognuno di noi Ha vissuto Nell'infanzia E che infatti Tutto il mondo Ritrova Dovunque voi andate Troverete qualcuno Che dice Amarcord Racconta La mia infanzia Tant'è vero Che Amarcord Prende il quarto Premio Oscar Il terzo Era stato Ote e mezzo Il quarto E Amarcord Siamo nel 73 Subito dopo Federico In questa memoria Inventata Accetta Malvolentieri Di interessarsi Delle memorie Di Giacomo Casanova Gli americani Trovano che L'abbinamento Federico Fellini Casanova Questi due italiani Di potente Immaginazione Possano essere Una specie Di Colpo Al botteghino Insomma C'è un incasso Mai visto Ma Federico Non accetta La visione Che gli viene In qualche modo Suggerita Che è quello Di prendere Attori Di grande richiamo Americani Sopo Newman Oppure Alpasino Marlon Brando Gli altri Penso che lui Possa tirare fuori Un film erotico E gioioso Ma Fellini Non piace Casanova Ne legge le memorie Dice che si annoia morte Che gli sembra L'elenco telefonico E soprattutto Il personaggio Così vitalistico Così pieno di sé Così trombonesco Gli sembra proprio Insopportabile Addirittura Lo chiama Scrive Nel pannello verde Che c'è dietro di lui Lo chiama Lo stronzone Non vuole neanche Chiamarlo col suo nome E non solo Non vuole Un attore americano Di grido Ma per interpretarlo Chiama Donna Sutherland Un attore Che ha già lavorato In Italia Alto come Casanova Un metro e novantadue e mezzo Per fargli interpretare Un Casanova Come dice lui Che è un essere Mai nato Imprigionato Nel grembo materno Da cui Cerca di scalciare Per esseri Che è questa compulsione Alla conquista Delle donne Senza mai capire Che cos'è poi Il mondo femminile E infatti Al termine del film La sequenza finale Sulla laguna Ghiacciata Di Venezia C'è Casanova Che danza Stringendo fra le braccia L'unica donna Che fosse A amato E che è una bambola Meccanica Una popè Meccanique Sulle note Meravigliose Di Nino Rota Il film È una delle più alte vette Che sia stato raggiunto Nel cinema Per la fotografia Di Peppino Rotunno Per i costumi E le scene Di Danilo Donati Veramente Siamo a un livello Artistico Quasi inattingibile Nonostante questo Il film Non ha successo Il pubblico Vorrebbe Trovarsi di fronte A una serie Di avventure erotiche Giocose Si trova invece Di fronte A un film Che fornica Proprio Con la morte Che si intrattiene Con la morte Ma subito dopo Stiamo entrando In una fase Importantissima Per l'Italia E per Federico Che è Un momento In cui La nostra nazione Ha perso la testa Il terrorismo Sta veramente Mettendo a rischio La nostra libertà Democratica E nel Nel 78 Viene Sequestrato E ucciso Uno dei nostri Politici Di punta Che è Aldo Moro Insomma È una situazione Veramente Tragica È Federico Che viene considerato Che è sempre stato Considerato Un regista Individualista Sognante Sognante Interessato Del direttore Del direttore D'orchestra Lo mandano via Mettono a suo posto Un metronomo Questa specie Di volutà Di violenza Iconoclasta Diventa Tammente assurda Che a un certo punto Una immensa palla D'acciaio Di quelli che anni fa Servivano per abbattere Gli edifici Si abbatte Su una parete Di questo bellissimo Oratorio Cinquecentesco E per farne proprio Cadere una parete Mandarla in calcinacci L'arpista Uno degli strumentisti Muore E in quella polvere In quel In quel disastro Irrecuperabile Gli strumentisti Riprendono Ognuno Il proprio strumento Il direttore L'orchestra Risale sul podio E si ricomincia A eseguire Il concetto Che era stato Interromto Torna L'armonia Sandro Pertini Che è Il presidente Della nazione italiana In quel momento Vuole proiettare Questo film Al Quirinale Perché i politici Si rendono conto Che quello che loro Non sono riusciti A capire E interpretare L'ha fatto Un grande artista Ecco Federico Diventa anche In qualche modo Profeta E riferimento Di tutta la cultura italiana E anche Internazionale Subito dopo Nell'ottanta Ritornerà Di nuovo Su un tema Che riguarda La società Dirigendo La città Delle donne La città Delle donne È una specie Di Rievocazione Del mondo Femminile Che c'è In quel momento Intorno Alla Alla cultura Dominante Che rivendica Per se stessa Un ruolo Che gli è stato Sempre Negato È il femminismo È il femminismo Ma non è un film Su femminismo O su maschilismo O sullo scontro Di queste due correnti Che creano Il temporale Non è questo È proprio Il ragionare Ancora una volta Su che cos'è Il mondo femminile Per un uomo Per un artista Per il suo nutrimento Per la sua capacità Di consegnarsi All'opera finita È un film Veramente molto Duro E molto Anche Divertente Molto Allegro In certi momenti C'è La sequenza Del toboga In cui lui ricorda Tutte le donne Della vita Che gli hanno creato Dei turbamenti E anche quella È una sequenza Indimenticabile Però intanto Noi siamo Entrati In un momento Storico In cui il cinema È andato Profondamente In crisi Tutto Tutta la società È andata In crisi Non è più Riconoscibile Federico Inventa Un film Che si chiama È la nave va Da dove l'aveva preso Non si sa Proprio veramente Il prestigiatore Che tira fuori Il coniglio Dal cilindro Probabilmente La sua capacità Rabdomantica Immagina La guerra balcanica Con 7-8 anni Prima Inventando La storia Di una crociera Che raccoglie Tutti i più grandi Cantanti lirici Sovrintendenti Di teatro I grandi giornalisti Per andare a spagge Le ceneri Del soprano Più sbalorditivo Che ci sia stata Nell'ambito Dell'opera liriga Nel mare Geo E lì c'è uno scontro Fra questa nave Innocente E invece La Il potere Il potere Imperiale Che vuole impedirle Di raccogliere Degli slavi Che nelle scialuppe Di salvataggio Stanno cercando Lo scampo Alla vita Quindi Una cosa Che anticipa Anche quello Che stiamo vivendo Adesso E quasi Impensabile Allora Che ci saremmo Trovati Di fronte A quel mondo Eppure È stato così Però Per la nave va Federico Porta a conclusione Una Un tema Che gli è molto caro Ecco Il tema Dell'illusionismo Vuole dimostrare Che Il regista È un illusionista Quando L'amico Joseph Lose Gli scrive da Londra Un bigliettino Dicendo Caro Federico Ho rivisto La dolce vita È un figo grandioso Inarrivabile Per favore Vai avanti così Abbi coraggio E Federico Gli risponde Quando un amico Come te Mi manda Un biglietto Con queste note Io mi sento In difficoltà Un trasalimento Come se mi avessero Scoperto Non pagare le tasse O il marito Di una bella signora Con cui mi intrattengo Vi andrà A chiedere ragione E invece Tu mi dici Che tutto va bene E che non devo Preoccuparmi di niente E io ti sono grato Allora Federico Con questo biglietto Di risposta Che cosa fa? Dice Io sono Un imbroglione Però ancora Nessuno mi ha scoperto Perché sono un imbroglione? Perché è un artista E artista Se imbroglia E quanto più imbroglia Tanto più sarà capace Di esprimere La perfezione Di quello Che lui pensa Che lui agita Nella sua mente In Amarcord Il passaggio del Rex Che è la scena Forse più coinvolgente Più emozionante Era stata Realizzata Costruendo Una sagoma Di masonite Masonite Bucherellata Con le luci dietro Uno sbaffo Di fumo Due Due Idranti Che facevano La schiuma Dell'acqua Davanti alla prua La sirena E poi un contro carrello Che faceva muovere In un movimento indotto La nave che Scivolava sul mare Verso la sua meta Un imbroglio Un gioco di prestigio Però Era un gioco di prestigio Che sconfinava Col miracolo Perché noi di fronte a quello Vediamo il Rex Che passa Proviamo quell'emozione Violentissima Di nuovo In Casanova La fuga Di Di Casanova Dalla casa Della monaca Dove è andato A fare Delle sue evoluzioni Eroti La fuga in gondola Viene realizzata Su un mare di plastica Fatta proprio Con i sacchi Della spazzatura Quelli neri Tirati E illuminati Con una luce radente Che si vedono Che sono finti Ma è la laguna Di Venezia Di notte Federico Vuole affermare La priorità Del suo mestiere Vuole dire Io sono un pittore Cinematografico E se un pittore Come Turner È capace Con un pennello Di farti vivere Una tempesta oceanica Con i galeoni Riversi Le vele Senti quasi L'urlo del vento Ti sembra di sentire Veramente la polvere D'acqua Sul viso In quadretti Di 50 cm quadrati Tanto più Su uno schermo Sarà possibile Fare un affresco In movimento Questo era Il sogno di Federico Che riesce Infatti Ad ottenere Alla fine Della nave va Quando tutto Si è concluso Federico Da grande prestigiatore Onesto Fa un carrello Indietro E scopre Che tutto quello Che si è raccontato Fino a quel momento È soltanto Finto È soltanto Finzione Addirittura Si toglie uno sfizio Un dialogo Fra due dame Vestite In moda Belle poche Che guardando Dalla tolda Un tramonto Straordinario Grandissima bellezza Uno dice Che bel tramonto E l'altra Le fa rima Sembra finto Ecco Federico racconta La finzione Racconta Che l'unica verità È nella finzione Dopo E la nave va Dedica Un altro film A sua moglie E si chiama Ginger e Fred Chiama A recitare Giulietta Masina Accanto A Marcello Mastroianni Che sarà Ancora una volta Il suo alter ego Addirittura Perché non ci sia Confusione Gli mette in testa La sua cloche Il suo cappelletto Inglese Piepul Che indossa Normalmente Vuole che Mastroianni Sui lui stesso Per raccontare Il congedo Di due guitti Due guitti Che erano Dei famosi Ballerini Di tip tap Per cui avevano presi In prestito Dall'America Questi due nomi Ginger Roger Fred Astaire E che vengono Richiamati Da una televisione Privata Tra lo scherzo E la parodia A ripresentare Il loro numero È un film Di straordinaria Malinconia Però Che racconta In maniera spietata Il mondo Del nuovo spettacolo Dove non c'è più Una sintassi Dove non c'è più Una storia Ma c'è soltanto Un'amalgama Di immagini Che passano Continuamente Come una catarata Come una catarata Su uno schermo E a cui Non si può Più Non c'è più La possibilità Di contrapporre Invece Il mondo Del cinema Che richiede Perfezione Artistica E questa denuncia È una denuncia Molto forte Che Federico Compie in una società Che però Sta andando ormai Da un'altra parte E che non può più Fermare Siamo nel 1985 Due anni dopo Realizza un altro film Che si chiama Intervista A cui ho avuto l'onore Di partecipare Come sceneggiatore In cui Vuole raccontare Proprio invece Il mondo del cinema Cinecittà Che cos'è il cinema Che cos'è la fabbrica Dei sogni Lo racconta Da una parte Rivolgendosi indietro Quando Lui stesso Arrivando a Roma Per la prima volta Entra dai cancelli Di Cinecittà Con l'emozione Il batticuore Affidato al giovane Sergio Rubini Che interpreta Lui dagli inizi E invece Anche poi Come città E adesso Dove è stata invasa Dalla pubblicità Televisiva E verrà Snaturata In pochissimo tempo Per finale C'è La La metafora Inventata La metafora Straordinaria Di Fellini Dei cinematografari Che si attendano Sotto Una 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 tenda Di cantinelle E cellofan Per aspettare All'alba Quando ci sarà L'assalto Degli indiani Passano la notte Così in attesa Con i fucili A tappi Cantando Ragionando Dormendo Finché all'alba Arriva un bolide Di fuoco E si scatena Dalle colline Intorno All'accampamento L'attacco Degli indiani Che a cavallo Compiono Questo carosello Attorno all'attendamento E impugnano Al posto Delle lance Delle antenne Televisive Siamo arrivati Siamo arrivati Quindi alla conclusione Della storia Il film successivo E il film Del testamento E il film testamentario Si chiama La voce della luna Federico Vuole dare voce Alla luna Vuole dare voce Ai pozzi Vuole dare voce Ai matti A quelle persone Che non hanno titolo Nella nostra società Vuole combattere La società Aggressiva Con una società Diversa Che ha un pensiero Diverso E che si scontra Con la prima società Se è vero Che ci sono addirittura Dei tecnocati Che pensano E realizzano Di strappare la luna La luna di Leopardi L'astro d'argento Di strapparlo dal cielo Per portarlo Sulla terra E trasformarlo In un oggetto Pubblicitario Anche quello E' un film Che racconta Le lacerazioni Della nostra società Veramente Uno scontro Potentissimo Che chiama A interpretare Due attori comici Nel momento Roberto Benigni E Paolo Villaggio Due attori comici Due attori molto amati Che trasforma In due caratteri Di straordinaria Metaforicità Perché sono due matti Due disturbati Due persone Che non hanno posto Nella vita Che non possono trovare posto Nella vita com'è Perché è una vita Troppo frastornata Troppo assordata Da rumore Troppo Troppo Con tanta amarezza Con tanta amarezza Ma anche con infinita poesia E in cui c'è una raccomandazione finale Veramente il testamento del clown Una voce di Benigni Che alla fine dice Se tutti facessimo Un po' più di silenzio Forse qualcosa Riusciremo a capire Ecco L'invito E' a fare un po' di silenzio A non farsi frastornare A stare vicini a se stessi E ad ascoltare La voce Dei pozzi Questo E' il testamento Del clown Questo è il testamento Del grande Federico Fellini Che Dopo quel film Non ne farà altri Ancora calpesterà Un set Per la realizzazione Di alcuni spot pubblicitari Chiesti da una grande istituto finanziario Senza smentirsi Per fare questi spot pubblicitari Che sono deliziosi Strappa delle pagine Da libro dei sogni E chiama di nuovo Paolo Villaggio A interpretarli E Fernando Rei A fare la parte Dello psicanalista Che cerca Di alleggerire Le sue angosce notturne E dopodiché Non ci saranno più immagini Di Federico Perché nel 1993 Dopo aver ricevuto Appunto il quinto premio Oscar Da cui siamo partiti Andrà A farsi A fare un intervento chirurgico Un po' difficile In Svizzera Rientrando in Italia Non rientra Roma Rientra a Rimi A suo grand hotel Dove il proprietario Gli ha riservato Vita natural Durante Una suite In cui può andare Quando vuole Per riprendersi Insomma Dall'operazione Della malattia E invece Ci viene colpita Da un ictus Che poi Lo porterà In pochissimi mesi Alla morte Per il suo Per il suo Funerale La camera ardente Era stata allestita A Cinecittà E in un giorno Dalla mattina Alla sera Erano sfilate Centomila persone Centomila persone Di fronte al feretro Allestito Dentro Il teatro 5 E il giorno dopo Alla messa funebre La messa di stato Recitata Nella basilica Di Santa Maria Degli angeli E dei martiri A piazza sedra Piazza della repubblica Una messa Celebrata Dal cardinale Silvestrini Insieme A padre Arpa Si dà l'addio A Federico Ed è tutta Roma Che gli si stringe Intorno E veramente Si assiste All'addio Di un regnante Di un monarca Di un personaggio Del cinema Che così grande Forse non ha conosciuto Nessun altro Federico È stato per l'Italia Il più grande artista Del novecento E forse Anche per il resto Del mondo Ricordiamolo In questo centenario Dedicandoci Ai suoi film Riguardandosi I suoi film Che possono Soltanto Portarci Salute Salute